Ciao ragazzi e benvenuti in K, 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 contenuti comprensibili con Carmine. Oggi studieremo il mappamondo e impareremo un po' di termini riguardo al viaggiare, alla terra, alla geografia e così via. Questo oggetto si chiama mappamondo, una parola che deriva da mappa, e questa è una mappa, una cosa che si usa per disegnare e descrivere il mondo, grazie al libro di spagnolo, è mondo. Il mondo sarebbe il nostro pianeta, la terra dove viviamo. Quindi da mappa e mondo deriva il mappamondo, questo oggetto qui. Noi italiani viviamo in questa nazione che si chiama Italia. La capitale d'Italia è Roma. L'Italia è bagnata, è circondata, circondare significa come avvolgere, dal mar Mediterraneo. È confina, confinare significa toccare, confina con la Francia, la Svizzera, la Slovenia e l'Austria. Per viaggiare in Italia possiamo usare i treni e muoverci sulle ferrovie, possiamo guidare la macchina, mentre per uscire dall'Italia possiamo volare con gli aerei oppure possiamo prendere una nave e navigare nel mare. L'Italia fa parte dell'Unione Europea. Grosso modo, circa, questa è l'Europa. Alcune nazioni come il Regno Unito non fanno più parte dell'Unione Europea. La Spagna, la Francia, la Germania, eccetera. In Italia ci sono tante piccole isole. Le due isole più grandi sono la Sardegna e la Sicilia. Si chiamano isole perché sono completamente circondate dal mare, dal mar Mediterraneo. Spostiamoci. Questo continente si chiama Africa. In Africa ci sono molti deserti e fa molto caldo perché si trova sull'Equatore. Questo, questo grande, 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 enorme mare, si chiama Oceano, l'Oceano Atlantico. E dall'altra parte dell'Oceano c'è un altro continente che si chiama America. Questo si chiama Nord, Polo Nord, dove ci sono i ghiacci e fa freddo. Qua sotto, invece, c'è il Polo Sud. Verso Est si trovano i paesi dell'Asia, che è un altro continente, tra cui, ad esempio, la Cina. Da quest'altro lato, verso l'Ovest, come abbiamo detto, ci trova l'America. Qui c'è l'Australia. Eccetera, eccetera. Ora vi faccio un po' di domande. Qual è la capitale d'Italia? Roma. Roma è la capitale d'Italia. Questa acqua blu che vedete qua forma un mare o un oceano? È un mare. È piuttosto piccolo. L'oceano è più grande. Dall'Italia si può arrivare in Norvegia camminando? No. Per arrivare in Norvegia si può prendere l'aereo e volare. Oppure si può in realtà anche prendere un treno perché la Danimarca è connessa con la Svezia tramite un ponte. ma non è importante. Che cos'è l'Africa? L'Africa è una nazione o è un continente? È un continente. non è più grande. Ma non è più grande. No.